Nel 1978, grazie alla legge Basaglia, gli ospedali psichiatrici chiusero per sempre. Gli studenti del corso di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica dell'Ateneo, con la collaborazione degli studenti di musicoterapia del Conservatorio, hanno organizzato una giornata per ricordare quanto l'ospedale psichiatrico rappresentasse un sistema orientato alla custodia e alla restrizione della libertà e non alla cura delle persone. L'inclusione in comunità, invece, oggi è un punto fermo. Negli anni si sono consolidati approcci riabilitativi integrati con le terapie farmacologiche che accompagnano le persone nel loro percorso per vivere una vita dignitosa e rispettata, accanto al dibattito uno spettacolo teatrale con una lettura della storia di Marco Cavallo. Temi di grande attualità anche alla luce della psichiatra uccisa di recente per mano di una persona nota da anni ai servizi di salute mentale. Hanno capito quanto è importante questa ricorrenza di questa chiusura che ci ha resi un po' unici nel mondo, devo dire, siamo anche orgogliosi di essere italiani e di poter dire alle persone che i manicomi dei noi sono chiusi. Certo, poi anche gli eventi ultimi hanno creato un grande disagio in tutti e quindi oggi è anche un'occasione per riflettere sugli errori passati che non potranno più essere ripetuti assolutamente e Marco Cavallo è qui per dirci non si torna indietro però anche per riflettere e per migliorare sicuramente presso le istituzioni sicuramente tutte le falle che ancora questo servizio bellissimo però ha territoriale ovviamente. Oggi Colle Maggio giace nell'abbandono, gli organizzatori hanno organizzato pure una passeggiata all'esterno di quelle strutture che in passato hanno ospitato l'ospedale psichiatrico ad accompagnare i ragazzi del Conservatorio Luigia Berti, la coordinatrice del Dipartimento di Musicoterapia del Conservatorio Casella. La musicoterapia ha sempre un grande successo e anche evidenze scientifiche. La musicoterapia è presente tra l'altro su questo territorio in forma pionieristica dal 2005 il Conservatorio di Musica Casella dell'Aquila è stato praticamente uno dei primi a rischiare su questo percorso che negli anni invece si è rivelato anche con evidenze scientifiche assolutamente fondamentale nella cura di moltissime patologie tra le quali anche quelle psichiatriche. Certo i giovani ovviamente saranno la forza motrice, lo sono stati in questi 18 anni si sono formati in maniera professionale e sono andati sul territorio a diffondere questo tipo di terapia che chiaramente in forma integrata contribuisce al miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti.